La cosa divertente è che probabilmente mi daranno una medaglia per questo. Ma tu chi sei? Remo Williams Non è vero Dov'è, Chun? È venuto a cercarti Allora, attenzione, prima squadra, prendete il lato destro Wheeler, con le sue truppe, copri il lato sinistro, poi fate il giro Ah, che deputenti, possono essere armati Ah, mi raccomando, attenzione al maggiore È una donna, vedete i nostri Guarda, è Chun Attenzione, non sparate, fermi Bisogna essere molto veloci per farlo Ma voi, chi siete? Siamo quelli di Arrivano i Nostri Sta bene, maggiore? Oh, sì, bene Va tutto bene Più in fretta Lo sai, Chun, alle volte sei proprio un rompipalle È l'unico modo per arrivare rapidamente al tuo cervello Avanti, sbrighiamoci Ma perché tanta fretta? Oh, devo vedere la 1750esima puntata di Oltre la Notte Chissà se Jim riesce veramente a camminare Cosa hai detto? O se il dottore gli ha detto così solo perché sperava di ottenere una nuova ala dell'ospedale dalla sua matrigna Chun, sei proprio incredibile No Io sono di più Molto di più Ciao! Ciao!